Il giallo sulla scomparsa di Rossella Corazzin si arricchisce di un nuovo capitolo e ancora una volta fare rivelazioni a Angelo Izzo, il cosiddetto mostro del Circeo che in più occasione ha raccontato cosa accadde alla diciassettenne. La scomparsa di Rossella Corazzin è data 46 anni fa, 1975 e l'agosto la giovane ragazza, diciassettenne, scompare nel nulla, nei boschi di Tai di Cadore dove si trovava in vacanza con la sua famiglia. Di lei torna a parlare la commissione parlamentare antimafia l'ergastolano Angelo Izzo, noto per essere stato uno dei responsabili del massacro del Circeo. I resti della ragazza potrebbero trovarsi nei boschi attorno al lago Trasimeno, avrebbe detto Izzo all'antimafia che ieri lo ha ascoltato per due ore in collegamento dal carcere di Velletri. Cosa accadde alla giovane Izzo lo spiegò anni fa riferendo che Rossella venne sequestrata in Cadore, portata a Riccione e poi nella villa del medico Francesco Narducci, morto nell'85, il cui nome finì nelle indagini sul mostro di Firenze. In quella casa, sul lago Trasimeno, la ragazza venne usata per riti massonici, abusata e poi uccisa. Del caso della scomparsa di Rossella Corazzine si occupò la magistratura di Belluno con il pubblico ministero Raffaele Massaro Prima e con l'ex procuratore Francesco Saverio Pavone che interrogò Izzo per ben due volte. Le dichiarazioni rese ieri all'antimafia sono state secretate ma saranno oggetto di valutazioni. La famiglia di Rossella Corazzine non si è mai arresa, i riflettori sul caso della scomparsa della giovane si sono nuovamente accesi e si ritorna a chiedere verità.